Buongiorno a tutti, su una questione di risposta dal consigliere Orlando Esposito, posso dire che c'è l'attenzione di tutti i consiglieri maggiorari, ma soprattutto dei consiglieri che sono di Armino, e su questo possiamo fare come c'è. Infatti c'è una grande discussione sul piano che è tanto di opere comuni, in quale siamo in interesse di molte cose che hanno fatto la prima. La problematica che io so, c'è una problematica che mi ha risposto a Paese, perché dopo un accordo che c'era il barattismo, da prima c'era un problema di forse c'è, forse non c'è, siamo in un'altra situazione, e quindi sarà una cosa più presto. A parte nostra, della maggioranza, dei tutti i consiglieri, di attività, di comuni hanno, prima di tutto, di destinare il regno e di strutturare il piano di l'azione dell'esercizio. Perché tutto c'è un problema da tutti i parti e l'altro. Perché si deve prendere il sindicato di amicotetico, il sindicato di aree, il sindicato di amicotetico, il sindicato di amicotetico, il pericolino di amicotetico, il pericolino di amicotetico, perché c'è soltanto la parte di amicotetico, che ha iniziato a vedere quelle espaglie da in Proccio, da verso la cittadina. Quindi c'è una comunità rettima, la posto di finanza del gruppo. Quindi noi, i problemi che abbiamo, ci siamo, scoperto, che naturalmente è un altro anticomodo portaleccio che si è capata. E la di amicotetico e di amicotetico è un parco di varie, sicuramente ma sulle livelle sono di torna a chi ma anche i tutti che mi chiedi e di attivarsi superi. Grazie, signor. Grazie signor per questo il dobbiamo fare all'interfezione di e l'interazione e il risultato proprio di tutti.